Buonasera a tutti innanzitutto, benvenuti a chi adesso già, come si dice, è veterano di questo momento così bello di catechesi con Don Maurizio Palmieri, c'è qualcuno tra virgolette nuovo e così presentiamo un po' Don Maurizio. Don Maurizio Palmieri viene dalla Versa, è vice direttore dell'ufficio liturgico a fianco a Don Pietro Tagliafierro, che è il direttore, non so, il sacerdote è un po' cicciottello, scherzo comunque, Don Pietro Tagliafierro che venne a fare il triduo per il 15 agosto, se vi ricordate. Abbiamo la gioia anche quest'anno di Don Maurizio con noi, ecco la sua disponibilità, è qualcosa di molto bello. L'anno scorso, da tre anni abbiamo fatto tanti passaggi, abbiamo visto la liturgia eucaristica, abbiamo visto, per quanto riguarda l'Anna della Misericordia, poi abbiamo visto l'anno scorso anche l'anno A della liturgia, sapete che hanno A, hanno B, hanno C. Adesso ci introduciamo nell'anno B, cioè il Vangelo di Marco, allora sulla scia degli incontri passati, ecco, adesso Don Maurizio ci aiuterà ad entrare sempre meglio nel Vangelo di Gesù e, in certo modo, a gustare ancora meglio, ecco, la Santa Messa, la Parola, l'Omelia, che è un bel parlare, un parlare tra amici. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, ti ringraziamo perché stiamo insieme e ti ringraziamo perché ci dai ancora la possibilità di gustare la Tua Parola attraverso il cuore di un sacerdote che, prima di dire, prima di fare, è essere, come diceva stamattina il Vescovo. Ed essere cosa? Essere innamorato di Dio, di questa Parola che è Gesù. E si può dare soltanto ciò che si ha. E allora ringraziamo il Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Madonna di Casandrino. Prego. Buonasera e ben ritrovati. Grazie. Io non so sinceramente se Don Ernesto vi vuole tantissimo bene, che pensa a farvi fare santi, richiamandomi continuamente. Noi, quindi, che voi mi dovete sopportare. O voi siete così, votati al martirio, da venire qui per poter sentire. No, veramente, Ernesto diceva una cosa molto bella, no, all'inizio della preghiera. Signore, ti ringraziamo per la gioia del poterci trovare insieme e gustare la Tua Parola. Sono due cose veramente bellissime. Poter stare insieme. Dice un Salmo, quanto è bello che i fratelli vivano insieme. Addirittura poi parragora la bellezza dello stare insieme all'olio profumato che scende sul volto, che dalla testa poi scende sui capelli. Parla della barba di Aronne, il Salmo parla di questo sacerdote Aronne. La bellezza dello stare insieme. E poi gustare la parola di Dio, perché questo è importante. Non stiamo insieme perché ci piace stare insieme. Ci possono essere delle intese, delle finalità, va bene, questo sì. Però noi non stiamo insieme come si può stare insieme in un circolo politico, in un circolo culturale, che però sono delle cose buone. E c'è un'altra finalità che ci ritrova nello stare insieme. Gustare la parola di Dio. E tra l'altro noi lo sappiamo. Esistiamo perché c'è la parola di Dio che ci chiama l'esistenza. Quindi è il Signore che ci mantiene nell'esistere. E quindi accogliere quella parola in pratica in un certo modo è diventare sempre più consapevoli del fatto che noi esistiamo. Perché noi questo rischio lo potremmo correre, vedete, di non essere presenti a noi stessi nel momento in cui stiamo vivendo. E quante volte noi questa espressione la facciamo? E' passato un atto a giornate. Che cosa ho fatto? Quante volte le giornate ci sembrano vuote, monotone, sempre le stesse cose. Perché forse in quei momenti noi non siamo presenti a noi stessi. Non abbiamo la consapevolezza di questo dono che ci è fatto della vita. Ci siamo perché anche questa mattina, non ce ne siamo accorti, ma anche questa mattina il Signore ci ha rivolto alla Sua parola. E quindi quella parola ci ha chiamato all'esistenza. Si legge in Ezechiele, se non erro, che il Signore dice così, il profeta parla a nome di Dio. Dice, Signore, una cosa neanche esisterebbe se Tu non la massi. Quindi la parola ci chiama all'esistenza, la parola di Dio, perché siamo amati da Dio. E guardate, questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Possiamo essere anche quel figlio prodigo, possiamo andare anche nel paese più lontano, possiamo spendere tutto quello che vogliamo della verità del Padre, ma mai dimenticare che siamo amati. C'è lo sguardo d'amore che ci precede e ci accompagna sempre, anche se noi non riusciamo sempre a corrispondere a questo sguardo poi d'amore. Quando Ernesto ci accennava quale sarà il cammino che faremo quest'anno, piacendo al Signore, il Vangelo di Marco, come l'anno scusa abbiamo fatto il Vangelo di Matteo, perché durante le celebrazioni ecolistiche domenicali noi ascolteremo il Vangelo di Marco. Quindi per vivere con più pienezza o consapevolezza, se volete, quindi ci facciamo accompagnare da Marco, che ci accompagnerà durante le domeniche. Quindi in un certo modo anticiperemo un poco le domeniche, ma non i Vangeli della domenica, chiaramente. Perché sarebbe poi anticipare eventualmente poi un'omelia. L'altra cosa che vi chiedo, come avrei chiesto anche l'anno scorso, è comunque di poter leggere voi poi a casa il Vangelo integralmente. Siccome avete visto, l'anno scorso non abbiamo fatto tutto il Vangelo di Matteo, solo dei passi siamo riusciti a fare. Così anche quest'anno faremo solo dei passi del Vangelo di Marco. E però poi corriamo il rischio che lo lasciamo a metà. Allora, il di più sarà sempre il compito vostro, non quello che faremo noi qui. Io farò semplicemente una piccola parte. Il di più spetta a voi. E soprattutto il di più spetta allo Spirito Santo. Quindi permettete allo Spirito Santo di lavorare dentro di voi. Dategli la possibilità di lavorare dentro di voi. Il primo modo, il primo luogo è proprio prendiamo in mano il Vangelo di Marco in quest'anno. Prendiamolo proprio come un impegno. Io ogni giorno. Cinque minuti, cinque versetti. Sei minuti, sei versetti. Un minuto, un versetto. Oggi ho solo a disposizione un minuto. Ammesso che, beh, vi ho dato il Vangelo domenica scorsa e gli invitati a nozze. Andate a dire tutto è pronto. Ma io sono impegnato. Io devo andare a vedere i miei buoi, devo andare a vedere poi i campi. Quando c'è l'invito del Signore abbiamo tutti l'altro impegno. Allora, va bene. Se abbiamo un minuto, usiamo un solo versetto del Vangelo di Marco. Vedrete che alla fine, l'anno è fatto 365 giorni. Se alla fine avremmo letto solo 365 versetti, noi avremmo fatto tantissimo, rispetto a niente. Però dipende da noi. E quindi permettiamo veramente allo spirito di poter lavorare e agire dentro di noi per questo. Ancora un'altra permessa prima di iniziare. Una permessa che vorrei che ci accompagnasse per tutti gli incontri. La prendo però non dal Vangelo di Marco, questa provocazione, ma dal Vangelo di Giovanni. Perché probabilmente il Vangelo di Giovanni noi non lo tratteremo mai. Perché nei tre anni, come diceva Don Ernesto, sapete che nella liturgia, noi abbiamo visto, se vi ricordate, tre anni fa, il ciclo è triennale. Noi abbiamo un anno A, anno B e anno C. E in questi tre anni leggiamo i tre Vangeli sinottici, l'abbiamo anche detto questo, se vi ricordate. Quindi l'anno scorso, e anche adesso, stiamo ancora leggendo il Vangelo di Matteo, perché è l'anno A. Col nuovo anno, con l'avvento, leggeremo l'anno B, il Vangelo di Marco, e l'anno C, piacendo da Signore, l'anno prossimo, il Vangelo di Luca. Giovanni si legge solo in tempi particolari, durante l'anno. Quindi una provocazione che prende da Giovanni, e diceva vorrei che ci accompagnasse per tutti gli incontri. Anche se ci accompagna per tutte le giornate della nostra vita, non sarebbe un male. A un certo punto, se vi ricordate, Giovanni Battista sta lì su lungo il fiume, sta battezzando. vede passare Gesù. E vi ricordate, Giovanni Battista aveva dei suoi discepoli. Andrea è il fratello di Simon Pietro. Giovanni, il fratello di Giacomo, erano discepoli di Giovanni Battista. Dopo diventeranno discepoli di Gesù. E quando Giovanni Battista vede Gesù passare, vi ricordate quella frase che noi ripetiamo ogni messa, ecco l'agnello di Dio. lo dice ai suoi discepoli. Quindi dice ai suoi discepoli, io Giovanni, tutta la mia missione, la mia vita, la mia vocazione, era mostrarvi l'agnello di Dio, cioè il Messia, Gesù. Gesù è arrivato, sta lì, è presente, sta camminando. Quindi seguite lui, non più me. Giovanni Battista a un certo punto dice, ecco l'agnello di Dio. Che fanno i primi due, Andrea e Giovanni? Vanno da Gesù, lo seguono da dietro. Gesù, mentre sta camminando, si rende conto che loro stanno seguendo e gli dicono, che cercate? E loro poi rispondono. Allora, io vorrei che ci accompagnasse questa domanda in quest'anno. Che cosa cerchiamo? Cioè, chiediamoci, perché siamo qui? All'anno meno un quarto c'è la partita del Napoli. Non potevamo già stare a casa e prepararci alla partita del Napoli. È un esempio banale, chiaramente, capite? No. Non potrei stare adesso, che non sono il compleanno di qualcuno, prepararmi al compleanno di qualcuno. Dopo una giornata di lavoro, stare a casa e ripostarmi, rilassarmi un po'. Anche a me. La domanda è la Bunga, anche a me stesso. Stamattina abbiamo fatto il ritiro, poi sono stato a fare altre commissioni, altre preparazioni. Che cosa cerco? Che stasera sono venuto qui con voi a condividere questa parola, a essere eco di questa parola. Perché, lo sapete, non si può vivere senza sapere che cosa cerchiamo. C'è sempre qualcosa che spinge la nostra vita. Altrimenti, come dicevo prima, no, ci mettiamo con Paolo attorno e stiamo così. Qualcosa ci deve spingere? Allora, che cosa cerchiamo? E quindi sentiamola, c'è rivolta questa domanda, direi quasi in modo pressante, martellante. Che cosa cerco? E facciamocelo ogni volta che ci prepariamo a venire qui all'incontro. Come ogni volta che ci prepariamo a andare a messa. E come ogni volta che facciamo cosa di particolare. Che cerchiamo? E la domanda, vedete, loro vanno dietro Gesù, ma la domanda la fa Gesù. Perché anche qui noi siamo sempre pronti a fare le domande a Gesù. E lui che pone le domande a noi. E se vedete le domande sono delle provocazioni. Provocazione. C'è una chiamata. Quindi nelle domande, in queste provocazioni, il Signore ci chiama a qualcosa. Perché noi non possiamo semplicemente dire vado all'incontro per conoscere un poco meglio la Bibbia. Allora come i bambini, perché? Perché vuoi conoscere un poco meglio la Bibbia? Per conoscere Gesù, va bene? Perché dovremmo arrivare anche all'essenziale per un certo punto di questo cammino. Ripeto, a livello personale. Attendiamoci poco all'interno del Vangelo di Marco. Marco, se avete visto un poco nei libretti del Vangelo, nella Bibbia, voi vedete subito che Marco è il più breve di tutti i Vangeli. Tenete presente Matteo ha 28 capitoli, Luca ne ha 24, Marco ne ha 16. Quindi veramente è il più piccolo. Giovanni invece ne ha 21. Pensate che nella storia della Chiesa, fino al IX secolo, Marco non è stato quasi ne preso in considerazione. Anche negli studi, anche negli studi, nelle riflessioni fatte sui Vangeli, Marco generalmente, ripeto, fino al IX secolo non ha avuto proprio nessun interesse. Perché? Per avere fatto che era il più piccolo rispetto agli Atti II, gli studiosi hanno sempre ritenuto che Marco fosse una sorta di riassunto di Matteo. Allora dice, già che devo leggere un riassunto, vado a leggere direttamente poi il testo lungo, il testo originale, pensavano gli studiosi, pensavano gli altri, già che è un riassunto. Invece poi, dal IX secolo in poi, si è scoperto attraverso poi degli studi, e in modo per creare, poi nel nostro tempo l'ho scoperto ancora di più, che non è che Marco è una sintesi o un riassunto degli altri Vangeli. Anzi, addirittura, Marco è il primo dei Vangeli. Quindi, Matteo e Luca hanno attinto loro una cosa da Marco, ma non tutto il contrario. Ebbene, è anche un'altra cosa che noi sappiamo che nella lista dei discepoli, degli Apostoli, Marco non è dei dodici. Marco era un discepolo di Simon Pietro. Quindi, Pietro ha raccontato, ha narrato, ha messo in pratica ciò che Gesù aveva detto andate e annunciate il Vangelo. Pietro ha annunciato il Vangelo. Marco, che era suo discepolo, ha messo lui per iscritto l'insegnamento di Pietro. E quindi, abbiamo proprio, se Pietro era il testimone a oculare, quello che ha visto, quello che ha sentito, l'ha narrato, Marco ha messo per iscritto proprio una prima testimonianza. Ripeto, dopo Marco, che probabilmente gli studiosi in un primo momento si pensava intorno all'anno 68-69 dopo Gesù Cristo. Quindi pensate, Gesù è morto l'anno 33 come secondo la tradizione, pensate, l'anno 70, quindi siamo a quasi 40 anni di distanza. Quindi è il primo testimone. Probabilmente gli studiosi adesso, proprio in queste ultime ricerche, datano il Vangelo di Marco tra il 58 e il 60, quindi ancora prima, capite? Poi abbiamo il Vangelo invece di Matteo e Luca, sicuramente dopo il 70, perché loro fanno riferimento a una cosa particolare, alla distruzione del Tempio. Il Tempio di Gerusalemme venne distrutto l'anno 70 e quindi perciò dopo, loro siccome parlano di questa distruzione di questo Tempio, quindi è dopo l'anno 70 di Matteo e Luca. Giovanni invece è l'ultimo dei Vangeli, intorno all'anno 100, quello di Giovanni. E va bene, così ci siamo un poco, fatti un po' il quadro della situazione. Quindi, ripeto, Marco, primo momento di disgrazia, poi invece è stato molto rivalutato. E dicevo, addirittura pensate che Marco ha inventato lui il genere dei Vangeli, perché fino a Marco non si è mai parlato di Vangeli. Marco è il primo che parla di Vangeli, proprio come genere letterario. E la cosa strana è che poi nella storia questo genere letterario del Vangeli è stato solo rifiuto a Gesù Cristo. A nessun altro personaggio è stato applicato questo genere letterario dei Vangeli. Quindi veramente Marco ha innovato proprio a livello proprio, diremmo anche letterario, la storia. Entriamo in questo Vangeli, in questi 16 foglietti che Marco ci ha consegnato e la storia poi ci ha trasmesso con molta umiltà. Tiriamo presente sempre un'altra cosa. Quando prendiamo in mano la saga scrittura non lo dimentichiamo che qui dentro ciò che brucia, ciò che arde è lo Spirito Santo. Perché è lo Spirito che ha suscitato gli apostoli, gli evangelisti, i profeti, i scrittori sacri. E siccome lo Spirito ha suscitato l'autore sacro, quindi noi abbiamo pagine che sono piene di Spirito. E quindi anche questo, ricordiamoci, siamo sotto lo Spirito Santo, sotto l'azione dello Spirito Santo. Marco per chi scrive, probabilmente Marco scrive a una comunità particolare, la comunità di Roma. Scrivendo a Roma, quindi scrive per delle persone che sono giudee cristiane. Lo stesso San Paolo e anche San Pietro quando arriveranno a Roma loro già troveranno delle comunità cristiane prima ancora della loro venuta a Roma. C'erano comunità cristiane che erano preesistenti all'avvenuta di Paolo e Pietro. Tant'è vero che quando Pietro scrive, siamo noi in questi giorni che partecipa a messi nei giorni feriali, stiamo leggendo la lettera di San Paolo ai Romani. Voi sapete che San Paolo quando scrive le lettere scrive le lettere a quelle comunità che lui ha fondato o che lui ha visitato. Quando scrive la lettera ai Romani, San Paolo non ha fondato quella comunità né neanche ancora la visitata a quella comunità. E ne scrive però a quella comunità. Quindi era qualcosa di una comunità che già preesisteva. chiaramente non pensate a grande comunità come possiamo immaginare noi. Erano piccole comunità che si trovavano in queste realtà e in queste zone. E quindi Marco ovviamente scrive questo mangio proprio a queste comunità che stavano lì a Roma. Ripeto, giudei cristiane. Tant'è vero che nei passaggi è vero che noi abbiamo il testo italiano non abbiamo il testo originale però se noi leggessimo in greco a un certo punto Marco rispetto agli altri usa i termini per chiarire per far capire a quelli che stavano a Roma che erano giudei cristiani a che cosa lui si volesse riferire. È una cosa un po' più tecnica questa però ripeto giusto perché come mai possiamo dire affermare questo perché gli studiosi che chiaramente fanno questo di professione quindi studiano scrivono il testo proprio nei termini anche originali quindi sono resi conti di queste poi differenze rispetto agli altri evangelisti. E quindi teniamo presente questo. E poi in modo particolare Marco scrive per chi si sta avvicinando alla fede in pratica per chi non conosce Gesù e vuole iniziare questo cammino alla scoperta di Gesù. Quindi mettiamoci anche noi in questo atteggiamento. Non diamo già per scontato che sappiamo chi è Gesù perché vedete 16 capitoli la metà di 16 è 8 se noi andiamo a vedere al capitolo 8 c'è una domanda che è la domanda fondamentale e quindi quella diventa proprio la metà del Vangelo perché fino al capitolo 8 c'è un percorso dal capitolo 8 al 16 c'è un altro percorso a capitolo 8 c'è una domanda che noi la conosciamo molti quanti a un certo punto Gesù dice sui discepoli ma la gente chi dice che io sia? E poi dice ma voi chi dite che io sia? E stanno proprio lì al centro ed è strano perché quella domanda ci viene posta all'inizio quasi come una sintesi cioè all'inizio già abbiamo la risposta della domanda che Gesù fa a capitolo 8 come sintesi e la risposta a quella domanda la troveremo proprio alla fine del Vangelo e stranamente quella domanda sapete chi risponderà a quella domanda? Un centurione e il centurione era di? Di dove erano i centurioni? Di Roma quindi il centurione romano dirà questo è il figlio di Dio chi dice alla gente e voi chi dite che io sia il centurione era figlio quindi il cammino di questo Vangelo ci porta a scoprire che cosa? Gesù figlio di Dio dice mamma mia a leggere il Vangelo per saperlo sì dobbiamo leggere l'Evangelo per comprendere perché in questo viaggio c'è il viaggio della nostra vita vedete noi potremmo con un rischio di sapere tutto su Gesù Cristo ma forse di non averlo mai incontrato aveva benedetto nella lettera nell'encicla Deus sulla carità lui diceva così proprio all'inizio dice alla base dell'essere credenti non c'è un insieme di dottrine di dogmi o di preposizioni di catechismo alla base dell'essere credenti c'è un incontro con una persona e questa persona è Gesù Cristo perché vedete è vero le idee le definizioni la teologia ci vogliono però quelle prendono la mente ciò che prende il cuore ciò che prende il viscere è imbatterti con una persona e noi vedremo che questa persona Gesù Cristo gli apostoli i discepoli l'hanno incontrata perché hanno immuotato Gesù Cristo o coloro che nel tempo sono stati segni della presenza di Cristo Gesù allora abbiamo parlato Giovanni Battista no Giovanni Battista comunque era uno che teneva viva l'attesa verso Gesù Cristo e qui noi siamo riferimento rimando a Gesù Cristo è la nostra persona questo riferimento ma non perché noi parliamo di Gesù noi potremmo anche non parlare di Gesù ma dovrebbe essere la nostra vita rimando a Gesù cioè gli altri vedendoci vivere di come noi viviamo dovrebbero poter dire qualcosa cioè noi dovremmo come siamo fatti noi la domanda che cosa cerchiamo gli altri vedendoci dovrebbero porsi un interrogativo se noi non siamo un interrogativo per gli altri in un certo modo noi come missione abbiamo fallito io domenica la messa degli invitati a nozze alla fine della celebrazione fece una provocazione alla comunità perché siccome parlai un poco del matrimonio quindi fece un poco su questo non l'allomedia e alla fine disse come tutti i matrimoni che si rispettano secondo voi alla fine del matrimonio cosa ci sta? la bomboniera e io dissi ai fedeli adesso qual è la bomboniera? se è vero che questo è un matrimonio abbiamo celebrato le nozze perché la messa l'abbiamo visto no sono le nozze dell'agnello di beati gli invitati ecco l'agnello di Dio le nozze dell'agnello noi partecipiamo alle nozze dell'agnello e gli dissi adesso la bomboniera qual è? e ho detto loro la bomboniera siamo noi per avere pure una cosa fateci caso quando ci regalano la bomboniera da matrimonio noi andiamo a casa o in macchina l'apriamo e diciamo subito mamma mia o come brutta o come bella e ho detto ai fedeli bella o brutta la bomboniera ora dipende da noi perché se noi uscendo da questa chiesa e siamo noi la bomboniera se noi abbiamo incontrato il Signore noi saremmo una bomboniera bella se non l'abbiamo incontrato la gente vedendoci cioè se non vedo cosa ti vedrà che bomboniera brutta quindi ho detto dipenderà anche da noi non semplicemente dal Signore ma dipende anche da noi allora dipende anche da noi questo essere questo rimando a Gesù vedete se io vedo una persona gioiosa felice anche se questa persona non dirà mai nel parlarmi della gioia però io voglio stare con questa persona perché mi trasmetterà la gioia e la cercherò perché mi darà sempre gioia anche se forse quello non dirà mai gioia o non racconterà mai una barzelletta ma io starò sereno sarò contento lo cercherò per questo se avremo la pienezza di Cristo ripeto anche se noi non ne parleremo di Gesù ma quel senso dove noi daremo la vita noi saremo cercati per questo e alla fine arriverà anche poi il riconoscimento di Gesù Cristo e la meraviglia poi noi stessi sarà quando poi ci troveremo da soli diciamo ma io non ho fatto niente perché noi pure qui molte volte manchiamo di difetto perché chissà che cosa vorremmo fare o che cosa pensiamo quando quella quotidianità della vita dove vedremo proprio nella quotidianità della vita il Signore si rivela e si manifesta beh fate un po' queste premesse allora cerchiamo adesso di entrare nel testo e di prendere il testo in mano chiaramente la raccomandazione qual è? questa sera siamo giustificati per la prossima volta no dobbiamo portare il testo qualcuno già ce l'ha il testo quindi benissimo portiamo il testo in mano io ve l'ho detto sono convinto di questo anche quando veniamo in chiesa veniamo a fare l'incontro la gente vedendoci e vede la Bibbia che tiene in mano già quella è una provocazione certamente diranno i soliti fissati diranno anche questo meglio che dicono i soliti fissati che non dicono niente meglio di essere una provocazione in negativo che essere completamente indifferenti la cosa peggiore è l'indifferenza ma invece provocarli e dire una cosa in negativo guardate lo dico in negativo perché in fondo in fondo cose di positivo lo stanno dicendo oggi leggevo un articolo su avvenire non so Ernesto se trovo l'opposizione di vedere questa cosa in una università a Macerata se non erro il giorno 13 venerdì scorso ricordate l'aniversità della Madonna di Fatima e la Madonna c'è stato quel momento lì di 100 anni fa alle ore 17 e 30 e c'è stata una proposta fatta in Italia dove era possibile fermarsi tutti e dire una ave maria 17 e 30 questa professoressa questi insegnanti università alle 17 e 30 ha chiesto agli studenti di fermarsi un attimo e dire una ave maria e lì ha detto le stesse che alcuni studenti l'hanno detta con lei altri sono stati in silenzio altri poi non hanno detto niente questa cosa poi è uscita fuori e chiaramente dopo fuori sono tutti scatenati perché questa professoressa ha abusato del suo ufficio perché non aveva rispettato gli altri e vabbè quelle cose che poi si dicono chiaramente quando poi bisogna prendere poi di mira la religione anche addirittura il lettore dell'Ateneo ha chiesto scusa di questo abuso che si era fatto il Vesco di Macerata invece ha dato una risposta bellissima molto ironica che non tutti pensavano abbiano capito la risposta che lui ha dato lui ha detto ha ringraziato gli studenti che hanno dissentito da questo fatto perché ha detto noi vi ringraziamo perché avete fatto riscoprire a noi la forza e la potenza di una sola Ave Maria cioè avete avuto paura di un'Ave Maria però non ha detto così questo voleva dire però noi ci avete fatto capire di quanto è potente una preghiera che addirittura vi ha scatenato tutto questo vedete che provocazione che è stata cioè però è stata in modo negativo però in fondo in fondo quell'Ave Maria comunque li ha provocati ed è vero ciò che ci dicono i mistici che il diavolo davanti al nome di Maria trema quindi vi rendete conto è di noi fateci caso di come poi la prendiamo molte cose alla leggera proprio anche la stessa Ave Maria oppure il Padre Nostro quindi allora ripeto dicevo questa realtà di una provocazione sana che certamente noi non lo facciamo perché li vogliamo provocare facciamo perché crediamo in quello che stiamo facendo poi che all'altro può dare fastidio un problema solo non è un problema mio e né tanto meno come si dice no lo sapete no dobbiamo rispettare benissimo certamente voglio rispettare però voglio essere anche rispettato quindi tu sei libero dopo tutto sei tu che sei venuto a casa mia non sono venuto a casa tua io ti accolgo e questa è giusto l'accoglienza però devi anche rispettarmi quindi non è che semplicemente io devo rispettare te e tu poi non devi sei autorizzato a non rispettare me inizio la lettura inizio del Vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio come sta scritto nel profeta Isaia ecco dinanzi a te io mando il mio messaggero egli preparerà la tua via voce di uno che grida nel deserto preparate la via del Signore raddrizzate i suoi sentieri vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano confessando i loro peccati Giovanni era vestito di pelli di cammello con una cintura di pelle attorno ai fianchi e mangiava cavallette e miele selvatico e proclamava viene dopo di me colui che è più forte di me io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali io vi ho battezzato con acqua ma egli vi battezzerà in Spirito Santo ed ecco in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni e subito uscendo dall'acqua vide squacciarsi i ciei e lo spirito discendere verso di lui come una colomba e venne una voce dal cielo tu sei il figlio mio l'amato in te ho posto il mio compiacimento noi adesso dovremmo leggere e rileggere questo brano non lo facciamo perché ripeto lo dobbiamo fare a casa e quando lo facciamo a casa vi prego a un certo punto dopo averlo letto e riletto chiudete gli occhi e cercate di vedervi anche voi lì sulla scena del fiume Giordano chi è stato in Terra Santa cosomai può essere ancora più forte io sono stato e tra 15 giorni avrò la grazia di andare di nuovo quando ero in Terra Santa ed è sempre un'emozione particolare quindi non ci siamo stati va bene, noi facciamo lavorare un po' con la nostra fantasia e quindi a casa nostra così in un angolino cerchiamo di immaginarci di sentire anche il rumore dell'acqua mentre scende di vederlo sto Giovanni Battista bello, alto però anche così selvatico come ti sentite, no? l'abito strano che porta anche quello che mangia che costa proprio di particolare i miei selvatico, le cavallette quindi vediamolo così anche direi pure rozzo e poi vediamo questo Gesù che arriva all'improvviso che è bello, no? dice così al testo ed ecco in quei giorni Gesù venne da Nazareth quindi vediamolo venire e chi è Gesù? è colui che viene sempre è stupendo questo è meraviglioso perché se viene sempre che cosa significa? che se lui viene io lo devo attendere il suo verbo è venire il nostro verbo è attendere e niente c'è di più bello dell'attesa tra poco inizieremo l'avvento piacendo al Signore e sapete non l'avvento è proprio caratterizzata dall'attesa ma la vita cristiana è caratterizzata dall'attesa vieni Signore Gesù annunciamo la tua morte e proclamiamo la tua situazione nell'attesa della tua venuta la lampada accesa è proprio questo è l'avvento, è l'attesa spegnere la lampada significa spegnere l'attesa spegnere l'attesa significa il nostro cuore non batte più significa che il nostro cuore forse non ama più non brucia d'amore per l'attesa e il desiderio di colui che deve venire è vero dice ma io l'ho già incontrato il Signore attenzione perché il Signore non lo si possiede mai una volta per sempre anzi proprio il momento in cui l'abbiamo incontrato e lo stiamo possedendo quel momento in cui lui dovrà ancora venire per possederlo ancora di più e possederlo diversamente la vita cristiana la vita credente è una vita continua di attesa e le attese vedete non sempre però si realizzano come vogliamo noi come le desideriamo noi ripeto noi possiamo sembrere così adesso normale automatico tutto questo ma sapete questa attesa quant'è durata qui è durata più di duemila anni cioè è un'attesa che profeti avevano annunciato gente che lì attendeva il Signore avete sentito no ha visto Giovanni i cieli squarciati il Salmo dice a un certo punto se tu squarciassi i cieli e scendessi quei cieli finalmente sono squarciati che momento unico e non si ripeterà mai più nella storia è stato quello il cielo si è unito alla terra è vero negli atti evangelici noi abbiamo la nascita qui non abbiamo la nascita di Gesù quindi abbiamo potremmo dire il momento in cui Gesù compare sulla scena è questo non è il Natale questo potremmo dire è il Natale secondo l'evangelista Marco provate a pensarlo questo momento è la cosa ancora più strana da pensare in questo momento no di questa attesa di millenni che Dio ha riflettuto Dio Padre per millenni di come presentare Gesù sulla scena del mondo come ce lo presenta in fila con i peccatori la riflessione del Padre non un altro modo per presentarcelo che mettendocelo in fila con i peccatori e come finirà la storia di Gesù dove si troverà in mezzo a due peccatori due ladroni e nell'inizio c'è già il tutto capite e tutto questo si svilupperà e allora a noi malati di grandezze malati di scena eclatanti malati di manifestazioni eccezionali superiori prodigiose malati di segni dei miracoli malati dei fuochi d'artificio io non so chi è Cassandrino festa e non lo voglio sapere come i fuochi d'artificio però dalle mie parti ad avversa un po' lì poi intorno intorno si andano in tutte le feste che ci sono e quindi l'esplosione dei fuochi la gara a chi fa i fuochi più grandi malati di questi segni qui invece questo Dio si presenta mettendosi in fila con i peccatori per chiedere un battesimo state vedendo anche nei Vangeli delle Domeniche non questi ultimi tempi le parabole stiamo ascoltando ma avete notato che nelle parabole quando Gesù dice il regno dei Cieli è simile a dice una logica che è completamente diversa dalla nostra con la quale noi non ci troviamo e non ci dobbiamo trovare perché se ci troviamo vuol dire che abbiamo ridotto Gesù il regno dei Cieli il regno di Dio qualcosa alla nostra portata il non trovarci e poter dire ma io qui non mi trovo come anche poter dire qui io qui non mi trovo con questa realtà e quindi scontrarci con questa realtà è un primo passaggio per iniziare la conversione perché se io penso che questo sia tutto scontato tutto normale ed è giusto che sia così allora forse c'è qualcosa che non quattro perché poi i Vangeli non è che ci dicono semplicemente di Gesù non è che ci fa la storia di Gesù non è che noi stiamo qui semplicemente per contemplare questo personaggio Gesù ma se gli estri discepoli che cosa cercate e poi gli ha detto venite e vedrete cioè adesso fai esperienza e l'esperienza tu la fai perché? perché credi che chi ti sta davanti ti possa trasmettere qualcosa e quella cosa che ti trasmette tu poi la possa vivere anche tu nella tua vita per essere a tua volta tu trasmettitore poi di quella cosa attraverso certamente la tua esperienza che è diversa la mia diversa da noi e nesta diversa dalla vostra ma lui deve passare però attraverso le nostre esperienze la nostra vita allora non è che semplicemente che bello che bella cosa che ha fatto Gesù eh ma io mi devo dire ma questa cosa la sto facendo come faccio ad essere discepolo altrimenti? discepolo di chi? di un'idea o della persona? alla base di essere cristiani non c'è un complesso ma un incontro con una persona perché i ragazzi quando sono fidanzati modificano certe cose del loro rapporto l'uno in riferimento all'altro perché l'altro ha preso completamente la sua vita e se noi evidentemente qualcosa del nostro carattere del nostro essere non l'abbiamo modificato forse perché Gesù non l'abbiamo ancora incontrato non ci siamo ancora imbattuti forse in lui può essere anche questo viene Gesù e si mette in fila con dei peccatori e con questo gesto del battesimo è il gesto più alto per dire la sua solidarietà Gesù con l'uomo Gesù solidarizza con l'uomo capite? non è al di fuori all'esterno l'abbiamo detto un'altra volta con altri passaggi è in mezzo mettendosi in mezzo è in mezzo e tu sei in mezzo non lo distingui più noi stiamo di qua ci distinguete vedete ma se ci mettessimo in mezzo non siamo più distinguibili Gesù a un certo punto non è più distinguibile per un attributo divino Gesù diventa distinguibile per l'agire umano quando diranno quest'uomo veramente è figlio di Dio è un grande profeta perché vedono in lui che cosa? il modo di come lui vive di come lui si comporta di come lui agisce le sue parole i suoi gesti ecco trasmettono sono un segno che rimandano a qualcos'altro di un mondo differente che lui frequenta la preghiera il rapporto con il padre se io frequento un mondo dove si ruba solo le mie azioni saranno quali? quelle di rubare se io frequento solo quel mondo chiaramente capite in ogni situazione cercherò di approfittare ma se io frequento un mondo dove regna l'amore dove regna donazione che cosa io porterò? amore donazione se sono circondato da quest'amore io questo donerò non donerò altro se sono circondato dall'amore il Vangelo inizia dicendo inizio del Vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio mi dicevo prima no è qui come se fosse come se fosse il titolo da un lato però è la sintesi di quello che Marco svilupperà inizio del Vangelo di Gesù Cristo inizio del Vangelo potremmo anche dire che inizio del Vangelo che è Gesù Cristo perché Gesù Cristo è il Vangelo e sapete che la parola Vangelo significa bella notizia buona notizia e la buona notizia qual è? non è Gesù la buona notizia è quello che Gesù dirà e farà che è la buona notizia e Gesù dirà e farà che cosa? una sola cosa Gesù dirà e farà il Padre dirà nel Vangelo di Giovanni io faccio ciò che ho visto fare dal Padre io dico ciò che ho udito dal Padre quindi la vita di Gesù non sarà altro che rivelare il Padre Gesù manifesterà il Padre non manifesta se stesso vivendo lui con le sue azioni con il suo parlare lui dice il Padre chi è? ecco perché dirà vi ricordate vicino a Filippo che ha visto me ha visto il Padre e allora se Gesù diventa solidale con gli uomini chi è che è solidale con gli uomini? il Padre se Gesù si mette in fila con i peccatori chi è che si mette in fila con i peccatori? il Padre chi è che ha invitato al banchetto di nozze? il Padre e chi ha invitato? chiama tutti prima quelli là i ragguardevoli e sono rifiutati poi ha detto alla fine chiama tutti buoni e cattivi cioè non fa differenza capite? perché un Padre non fa differenza i figli fanno differenza ma il Padre non fa differenza perché al Padre il figlio gli importa solo quello la dignità del figlio perché il figlio anche se è un malvivente ha una dignità di essere figlio che niente e nessuno gli potrà togliere anche se è un malvivente che non giustifica le azioni cattive chiaramente c'è anche il modo attraverso il quale il Padre le azioni negative le fa presente al figlio ma non lo esclude dall'eventuale partecipazione dal banchetto tenevano gli ha chiesto all'abito ricordate è l'abito annunziale quindi il Vangelo che è Gesù Cristo quindi il Vangelo è questa bella notizia che il Padre non è che sta beatamente nel cielo ma che il Padre si coinvolge completamente con l'uomo quale uomo? quello della creazione come Adamo prima del peccato no con l'uomo Adamo dopo il peccato perché avete sentito lì andavano tutti a farsi battezzare in quell'acqua riconoscendo i loro peccati e in quell'acqua dove sono scesi i peccatori dopo quei peccatori chi scende in quell'acqua? Gesù Cristo in quell'acqua sporca ecco questa solidarietà quindi il Padre diventa solidale con questo uomo qui non con l'uomo perfetto perché togliermi la curiosità chi di lui non si rapporterebbe con un uomo perfetto con l'uomo santo proviamo invece a scommettere chi si va a rapportare con il pezzente con il peccatore con quello lì con quello che è notoriamente conosciuto come peccatore abbiamo difficoltà è vero lo dobbiamo dire lo diciamo con onestà con sincerità e chiediamo anche al Signore che ci possa guarire in questa ferita ci possa aiutare in questa conversione ci possa aiutare a poter leggere diversamente perché anche qui dobbiamo chiedercelo che differenza tra me e lui forse perché io ho avuto la grazia di studiare ho avuto la grazia di avere una famiglia che di valore mi l'ha trasmessa forse lui questa grazia non l'ha avuta questa possibilità di una famiglia che si curasse lui non l'ha avuta anziché partire subito in quarta poi con un giudizio o peggio ancora con un pregiudizio come ci ricordava il mangelo di oggi del fariseo che invita Gesù a casa e lo critica perché inizia a mangiare senza lavarsi le mani senza sapere la storia poi di questa persona già l'avevamo detto l'anno scorso no vi ricordate l'episodio del film Io speriamo me la cavo quando il bambino si addormenta lì sul banco a scuola il professore poi lo rimprovera perché sta dormendo quando poi capisce perché sta dormendo poi lo lascia dormire dice un proverbio orientale prima di giudicare una persona cerca di passare tre giorni nelle sue scarpe e dopo lo potrà giudicare allora capite io di chi sono discepolo o di chi dovrei diventare discepolo allora capite la domanda che cerchi sei disposto a perché un conto io lo posso cercare per un benessere mio un conto è che lui viene e mi scombustola il mio benessere e sono disposto a lasciarmi scombustolare questo qua ci sta scombustolando ai primi versetti e quando arriveremo a capitolo 16 dice che succederà non succederà non succederà niente perché sarà sempre lo sviluppo di questo vedete è come se il Vangelo con questo versetto perciò ho detto basta anche un solo versetto diventa si dilata dentro di noi capite perché Santa Teressina di Vissier monaca di clasura carmelitana è dilata potetice delle missioni stando in un monastero ma non si è mai mossa da lì dal monastero è perché il cuore che si è dilatato si è dilatato perché? perché ha lasciato entrare Gesù Cristo e si è messo alla segura di Gesù quando a un certo punto dice ma io voglio capire signore io vorrei essere questo 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 voleva essere tutto per Gesù e si rende conto che non lo poteva essere a un certo punto dice inizia a leggere gli occhi di San Paolo ai Corinzi a capitolo 13 l'inno alla carità e a un certo modo lei dice così ho capito quando dice a un certo modo ricordate dice di tutto il più grande è la carità lei dice ho capito nel cuore della Chiesa mia madre io sarò l'amore perché dice se non c'è l'amore non c'è niente quindi se c'è l'amore c'è tutto però capite grazie alla luce della parola è arrivata questa consapevolezza e il suo cuore si è dilatato c'era una preghiera non ricordo l'autore Enrico Medi mi pare già l'ho citato ma l'autore non so se sia lui o meno un certo punto dice così lui parla ai sacerdoti questo l'ho detto ai fratelli di Agono la settimana scorsa lui un certo punto dice così sacerdoti se avete paura dell'amore non fatevi sacerdoti io questo credo che valga per tutti i cristiani se abbiamo paura dell'amore non dobbiamo fare niente perché l'amore dice lui entrerà dentro di voi vi dilanierà chi è genitore lo sa molto bene quindi inizio c'è una cosa particolare il testo italiano della Bibbia che abbiamo noi inizia proprio così dicendo inizio il testo originale dice principio del Vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio secondo me questa parola principio che cosa vi ricorda? vi ricorda qualcosa? la prima pagina della Genesi quindi siamo all'inizio del mondo principio lì vi ricordate c'è un altro evangelista che inizia proprio con principio Giovanni allora Marco dicendo principio inizio sta ponendo che cosa? sta ponendo un nuovo inizio sta dicendo che una storia sta per iniziare come lì è iniziata la storia del mondo quel principio lì ora quel mondo è come se avesse il suo inizio o come se volesse dire la sua comunità attenzione quel principio lì qual è il principio che ha dato senso e significato a tutto? è il Vangelo di Gesù Cristo il Vangelo che è Gesù Cristo tanto è vero che da San Paolo in lui in Gesù tutto è stato fatto tutto ciò che esiste tutto è stato fatto quindi Gesù diventa anche la realtà modale esemplare di tutta la creazione in lui noi siamo stati creati quindi questo inizio questo principio Gesù Cristo se vi ricordate l'anno scorso è bello perché se io domani leggo questo brano e leggo in principio o leggo in inizio significa che è domani mattina quest'inizio e questo principio significa che è domani mattina l'inizio della mia giornata sarà il Vangelo la buona notizia che è Gesù Cristo e che domani Gesù Cristo venendomi incontro si metterà ancora una volta in fila in mezzo tra me che sono peccatore e tutta la realtà che mi sta intorno sì perché domani iniziando la mia giornata immergendomi in quest'acqua in quest'acqua che dice conversione dice perdono dice vicinanza di Dio io inizio la mia giornata capite? ed è anche dopo domani così e poi Marco qui a un certo punto presenta in questa scena quindi inizio già Gesù Cristo poi c'è un certo punto che per sviluppare questo fa riferimento a Giovanni Battista ce lo presenta e ci presenta Giovanni Battista citando il profeta Malachia e il profeta Isaia e in queste citazioni che ha posto dove dice così ecco dinanzi a te io mando il mio messaggero egli preparerà la tua via sta facendo riferimento a Malachia e Malachia però noi dovremmo andare a vedere perché nel capitolo 3 Malachia sta parlando della venuta finale del Signore e dice così tra l'altro la cosa strana l'ultimo dei profeti prima di iniziare il Nuovo Testamento è proprio Malachia quindi dice la proprio come se Malachia è l'ultimo e dice così ecco capitolo 3 io manderò un mio messaggero la parola messaggero dice angelo in greco quindi dice io manderò il mio angelo a preparare la via davanti a me quindi il Signore sta a prevenire il profeta Malachia sta profetizzando dice il Signore sta a prevenire allora dice Signore io che sto a prevenire prima di arrivare io mando il mio angelo davanti a me e subito dopo che arriva l'angelo entrerà nel suo tempo il Signore che voi cercate e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate eccolo venire dice il Signore degli eserciti chi sopporterà il giorno della sua venuta chi resisterà a sopparire egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai si eterà per fondere e purificare l'argento purificerà i figli di Levi li affinerà come oro e argento perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia quindi l'immagine che ci offre Malachia è un'immagine forte cioè un'immagine di questo messaggero che viene prima dell'arrivo del Signore che viene a mettere le cose a posto e purificare e penare le cose ciò che farà Giovanni se vi ricordate col suo messaggio duro però vedete Marco quando cita Malachia cita solo ecco mando il mio messaggero davanti a te punto non cita le immagini forti già cambia l'impostazione colui che arriverà per annunciare e preparare la venuta di Gesù non lo presenta più come colui che tiene in mano la lisciva per purificare e per pulire e poi cita Isaia che dice preparate la voce di uno che grida nel deserto preparate la via del Signore raddrizzate i suoi sentieri qui sta parlando allora di due cose vedete di giustizia e di libertà perché Isaia fa riferimento al capitolo 40 i studios lo chiamano la parte libro delle consolazioni perché che era successo il popolo di Israele dopo essersi allontanato dal Signore si trova ad essere ridotti in esilio a Babilonia lì a Babilonia sperimenta la depressione più grande a un certo punto sulla scena arriva Isaia e Isaia capitolo 40 dice così consolate consolate il mio popolo parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta la sua colpa è scontata perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati una voce grida nel deserto preparate la via al Signore spianate nella steppa la strada per il nostro Dio ogni valle si è narzato ogni monte ogni colle si è abbassati il terreno accidentato si trasforma in piano e quello scosceso in vallata allora si rivelerà la gloria del Signore e quindi Isaia sta dicendo questo al popolo questo popolo che stava in esilio dice consolate state consolati perché il Signore finalmente ha deciso di intervenire per liberarci e quindi uno grida ecco il Signore sta per venire allora Marco che cosa dice? inizio del Vangelo di Gesù all'inizio del Vangelo di Gesù c'è Giovanni Battista che annuncia questa realtà di giustizia che il Signore viene a realizzare attenzione la giustizia non è quella umana la giustizia umana dare a ciascuno il suo non è questa la giustizia umana la giustizia umana è questa ma quella divina è diversa di quattro parliamo della misericordia durante il ritiro dicevamo che la giustizia divina è il Signore rende giusto con la sua donazione anche chi giusto non è è la libertà con la prospettiva di Isaia quindi chi preparerà Gesù perché sta per venire Giovanni Battista e secondo Marco Giovanni Battista ha queste due caratteristiche quindi diventa questo messaggero diventa questo angelo che prepara questo chiaramente è chiesto che cosa allora nel cuore dell'ascoltatore del discepolo di cui si mette in cammino il desiderio perché se tu vuoi passare perché voce di uno che grida nel deserto vedete il deserto che cos'è? il deserto è lo spazio di confine tra due realtà tra la schiavitù e la libertà ricordatevi l'Esto dove ricordatevi l'uscita dall'Egitto abbiamo visto con l'Equarestia da stare lì in Egitto schiavi e entrare nella terra promessa però se tu non hai il desiderio di fare questo di operare questo passaggio allora resterai lì e Giovanni questo lo realizza nel deserto battezzava nel deserto il deserto il deserto è sempre un luogo affascinante un luogo misterioso noi facendo i ritiri vi ricordate ci siamo sempre tutti così nel ritiro è un momento di deserto così in genere si dice cioè è un momento dove sto un poco da solo non sto con le mie comodità non ho la mia realtà abituale e quotidiana intorno a me non ho il fatto anche di mangiare diversamente anche se oggi come oggi durante i ritiri si mangia meglio perché tutti portano qualcosa e tutti quanti vengono condivisi quindi non è che non facciamo il digiuno durante il deserto però per dire non abbiamo quelle nostre comodità Giovanni lì nel deserto in questa realtà non ordinaria è lì da questo annuncio c'è quasi dire è un annuncio asciutto essenziale e lo devi vivere così in questa realtà benissimo mi fermo qui ripeto l'invito a casa ritorniamo su questo ritorniamo e andiamo anche oltre ripeto con questa proprio realtà di immedesimaci nella scena vediamolo Giovanni vediamolo mentre sta annunciando vediamo anche Isaia se ci riusciamo vediamo anche Malachia se ci riusciamo non disturbiamo la scena mettiamoci lì piccoli piccoli e lasciamoci provocare e vediamo che divario c'è tra noi e lui e tra questo annuncio e la nostra realtà quotidiana c'è la consapevolezza non lo sapete un conto è sapere l'io ideale un conto è il lio reale e facciamoci che queste due realtà non siano troppo distanti tra di loro tra l'idealità e la realtà con la grazia di Dio cerchiamo di accorciarle sempre di più che noi molto volte possiamo pensare di riconoscere Gesù dall'aureola che ha in testa oppure riconoscere noi dovremmo imparare a riconoscere dalle azioni che uno compie perché Gesù viene riconosciuto dalle sue azioni ed è strano perché quelle azioni non tutte tutti lo riconosceranno da quello che lui farà come figli perché davanti a certe azioni addirittura lo condanneranno mentre gli altri aderiranno a lui quindi illuderci molto altrimenti se vedessi Cristo sarebbe un'illusione questo anche perché il Padre ci ha detto fondamentalmente che è il Cristo noi siamo chiamati ad ascoltarlo non tanto a vederlo quindi allora io assimilo Cristo quindi la sua parola e il modo attraverso il quale di poter dire che lo ha assimilato poi sono le mie azioni è la vita concreta che dice effettivamente il nostro credere o il non credere perché oggi festeggiamo un santo Sant'Ignazio d'Antiochia Sant'Ignazio d'Antiochia ha una fase particolare lui dice così è meglio non dirsi cristiani ma vivere da cristiani che dirsi cristiani e non vivere da cristiani perché in molti volte noi possiamo pensare di ridurre che il cristianesimo sia fare o non fare qualcosa ma a livello di rito di celebrazioni esterne noi invece il cristianesimo prima di tutto è aderire a una persona e come dicevamo prima se io aderisco a una persona poi vivrò anche di questa persona io non posso dire che ho sposato Michelina e poi Michelina nella mia vita non ha nessuna influenza la mia vita dovrà anche trasmettere l'unione che ho con Michelina grazie a tutti grazie a tutti